Castelnuovo e Fiuggi si ritrovano dopo essersi incontrate alla prima di andata e sicuramente dopo un intero girone possono sorridere per il ben fatto. Di certo i neroverdi hanno altre ambizioni, ma la squadra di Incocciati, evidentemente con una classifica a bugiarda, può sicuramente recuperare il ritardo accumulato. Incocciati sceglie il 4-3-1-2 con Basilico tra le linee, solito 4-2-3-1 per Di Fabio con Sbarbati, terminale e offensivo. Fischia il Toscano Campagni. I neroverdi partono bene e al terzo passano. Loviso viene sgambettato al limite dell'area. Lo stesso numero 5, specialista, si incarica della battuta e con un destro piazzato sblocca la gara. Passa un minuto e il Castelnuovo protesta con Campagni di Firenze. Il tocco di Moriconi con la mano sembra netto, ma per il fischietto toscano il 2-rosso-blu ha il braccio vicino al corpo e quindi lascia correre. Ma gli ospiti, appena si affacciano in avanti, trovano il pari. Il tiro dalla distanza di Basilico non viene trattenuto da Natale. Il più lesto è Gaetani che porta i suoi sull'1-1 è il nono. La gara è viva e poco dopo, al dodicesimo, il Castelnuovo sfiora il nuovo vantaggio. Emili si invola in area tra le maglie rosso-blu. Appena vede lo specchio calcia, ma la palla bacia il palo alla sinistra di Novi ormai battuto. Ventiduesimo, stupenda azione del Castelnuovo con Bregasi che lancia Emili. Il 10 immediatamente al centro dove c'è Sbarbati, ma il 9 apre troppo il piattone e spreca sul fondo. Ancora Castelnuovo al quarantesimo con Di Ruocco a tentare di far male, ma la scivolata di Proia sventa e pulisce l'area dal pericolo. È l'ultima azione di un bel primo tempo, combattuto con continui cambiamenti di fronte. Nella ripresa parte meglio il Fiuggi. All'ottavo Proia vince un rimpallo e calcia immediatamente. Il Mancino finisce fuori, ma che brividi per Natale. Sedicesimo, pallone in noco in area che Novi non riesce a trattenere. De Giglio s'avventa e lo stesso Novi lo stende e stavolta il rigore c'è. A batterlo va sempre lui. Loviso, portiere a sinistra, pallone a destra e 2 a 1 Castelnuovo con Loviso che raggiunge la doppia cifra. Ventunesimo, cerca la tripletta Loviso da piazzato, il destro leggermente deviato, sfiora ugualmente il palo alla destra di Novi. Al trentaduesimo, ancora su calcio di rigore, cambia il parziale. Campagni di Firenze vede la spinta di Emili su Forgione da corner. Sul dischetto il Mancino di Proia non lascia scampo a Natale per il 2 a 2. Trentacinquesimo, tiro cross di Di Ruocco e Novi costretto a smanacciare in angolo sbattendo sul palo. Al quarantesimo ci prova ancora il Fiuggi, stavolta con Michele Foglia che da destra converge verso il centro. Fa partire il Mancino ma risulta troppo centrale e per Natale non c'è nessun problema. Le ultime emozioni arrivano proprio sugli istanti finali del match. Prima il Castelnuovo con Foglia che non trova lo spiraglio dopo il tiro di Di Ruocco. Poi Michele Foglia appena in area ma a Natale blocca senza patemi. Mister, innanzitutto credo che sia stata una partita che ha mostrato tante cose belle sotto l'aspetto tattico, tecnico ma anche sotto l'aspetto agonistico. È un risultato giusto o c'è qualche recriminazione da parte vostra? No, penso sia un risultato giusto anche se ci sono delle recriminazioni perché abbiamo incontrato una squadra forte, è stata una bella partita. Mi sono divertito anch'io perché dall'altra parte avevamo una squadra che sa bene palleggiare, che sapevamo. Nello stesso tempo sapevamo anche che ci lasciava degli spazi molto ampi da attaccare. Peccato che l'abbiamo fatto però magari a volte abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio o abbiamo sbagliato la conclusione in porta. Con un po' più di cattiveria e di qualità forse avremmo avuto ancora qualche occasione in più e avremmo fatto qualche gol in più. Vista l'azione quella improvvisa con il lancio di Bregasi per Emili, il cross immediato con l'intervento che è finito fuori di Sbarbati. E' quello il Castelnuovo, cioè se non si riesce a recuperare palla e subito e immediatamente ripartire per trovare gli spazi si fa più difficile, non avendo forse un bomber che riesce anche a risolvere le partite cosiddette sporche? No, sicuramente è il nostro modo di fare calcio ma quello che abbiamo fatto oggi è in considerazione anche dell'avversario perché l'avversario che ho detto che gioca palla con tanti uomini, offende con tanti uomini, per nello stesso tempo concede. Quindi noi abbiamo fatto quel tipo di partita sapendo che quegli spazi dovevano essere attaccati meglio. Quello che ho chiesto qualità nell'ultimo passaggio perché diventava importante e fondamentale per la vittoria. Peccato perché magari anche un po' di stanchezza per il grande lavoro, grande mole di lavoro svolto in mezzo al campo, forse questo ci ha tolto un po' di lucidità negli ultimi metri. Visto era un giudizio sul direttore di gara soprattutto nell'azione in cui è stato fiscato il calcio di rigore per il Fiuggi. Si è capita la spinta ma non si è capito l'autore della spinta. Lei ha visto qualcosa? No, i ragazzi mi dicono che l'arbitro ha munito infatti Emili dicendo che era lui quello che ha fatto rigore ma mi sembra strano perché Emili è sul primo palo, quello gli è arrivato da dietro. Quindi loro mi dicono che non c'è stato niente, che uno si è buttato, ha strillato e l'arbitro, indipendentemente dal fatto se era o non era, questo lascia il tempo che trova, a me mi interessa. Da parte mia non c'era polemica, era solo per capire lo sviluppo dell'azione perché dalla tribuna si è capito pochissimo. Non mi va, se dovrete temi ragazzi ci sarebbe da fare polemica ma non mi va perché magari questi episodi a volte ti vengono a favore, a volte ti vengono contro, quindi anche il primo gol non so se era fuori gioco o meno, ho capito così, però l'arbitro ha visto così. Dalle immagini sembra di no. Ecco, è deciso così, quindi va bene così, va bene altrettanto che ho visto un'altra bella prestazione della mia squadra contro un avversario forte e quindi è dimostrazione che, come ho già detto, questo sarà un altro campionato, questo girone di ritorno, però noi siamo partiti col piede giusto, la mentalità è quella giusta, quella che mi piace, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Oggi abbiamo recuperato nonostante il regalo della punizione perché palla a noi e soprattutto il regalo del rigore, però poi ci siamo tirati sulle maniche e siamo riusciti a rimettere in ordine una gara importante perché poi alla fine, come avete visto, la squadra ha dimostrato di avere anche una buona personalità nonostante la nostra giovane età e quindi sono contento, sono soddisfatto non tanto per il risultato perché obiettivamente potevamo pensare anche di vincerla questa partita, però nel doppio confronto che abbiamo avuto sia all'inizio del campionato con la squadra locale che ci ha battuto 1-0 immeritatamente e anche lì, se ricordate bene, oggi meritatamente tutte e due le squadre hanno offerto un bel calcio. Mister, da parte mia un 2-2 che ha mostrato tecnica, agonismo, anche sotto l'aspetto tattico, non le nascondo che ho visto tante belle novità in questo campionato, ma queste sono situazioni che si possono ripetere per tutto l'arco della stagione oppure dipende un po' dalla squadra che si va ad affrontare? E parlo sia per voi che per il Castelnuovo. Ma io sono dell'idea che, lo dicevo prima, in questo campionato non bisogna dimenticare siamo nei direttanti, all'interno dei contesti di squadra abbiamo l'obbligo, come sapete, di avere tanti under, addirittura il 2002, il 2001, il 2099, che sono giovani che obiettivamente, insomma io che forse è qualcosa di questo mestiere mastico, so che hanno necessità e bisogno di essere aiutati, non bisogna avere fretta, se si vuole dare una mano ai ragazzi, soprattutto agli under, che devono per forza crescere per aspirare a palcoscenici differenti da quello del direttantismo. Io anche se dovessi vincere il campionato nei direttanti non mi sentirei come Murigno che vince la Coppa dei Campioni, mi sento molto più soddisfatto, ecco per esempio noi l'anno scorso abbiamo dato un ragazzo nostro del 2002, al Genova e quindi queste sono soddisfazioni che io, che ho passato la mia vita, gran parte della mia vita facendo questo percorso, mi danno un grande orgoglio, una bella speranza e poi cerco durante tutta la settimana di fare in modo che i miei giocatori giochino al calcio, non rinuncino a tenere palla, a giocare palla attraverso i movimenti, attraverso delle capacità di vetture e non amo sicuramente insegnare loro palla lunga e pedalare. L'ultima per me è un po' bugiarda la classifica del Fiuggi in base a quello che stiamo vedendo domenica dopo domenica e se sì di chi è la colpa? Ma questo è un gioco di opportunità, quando noi abbiamo lasciato tanti punti indietro, mi viene in mente anche l'ultima sconfitta a casa con il Campobasso, abbiamo regalato una gara, siamo stati come oggi, siamo stati una squadra che ha saputo dire il suo, abbiamo regalato il primo gol e poi si fa fatica quando incontro le squadre ben organizzate e che hanno speso tantissimo per fare delle squadre così. Noi sappiamo di ogni tanto regalare qualcosa e forse quest'anno siamo penalizzati dalla classifica, sono d'accordo, mi trovo d'accordo nel constatare che non abbiamo i punti che meritiamo, sicuramente sì, però ancora abbiamo due partite da recuperare quindi voglio dire ce la giocheremo fino alla fine, appena è iniziato il girone di ritorno abbiamo incontrato per ora la prima della classe e abbiamo dimostrato che insomma lavorando con dei criteri possiamo dire la nostra fino alla fine.